Ciao studenti, oggi parleremo del barocco, che è un movimento culturale che nasce nel 1600. Il termine può significare un sillogismo ingannevole oppure un tipo di perla irregolare. I termini rimandano a qualcosa di imperfetto, infatti prima aveva un senso dispregiativo. Tra le tematiche troviamo la superiorità dei moderni sugli antichi, l'uomo del 600 instaura un rapporto più libero nei confronti delle opere del passato. La perdita del centro porterà invece alla ricerca del nuovo, grazie alle numerose scoperte geografiche, astronomiche e scientifiche di quel periodo. Basti pensare a Galileo Galilei. Un'altra tematica importante è la meraviglia. Il poeta voleva suscitare nel lettore l'ammirazione per ciò che stava leggendo, e lo fa tramite l'uso della metafora e dell'antitesi. Inoltre in questo periodo si diffonderanno le accademie. Grazie. 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 Grazie.